Eccoci qua, io sono in compagnia sempre all'All Fashion, non dimentichiamoci noi di Radio Lollers Io qua ho l'onore di aver accanto a me uno dei più grandi PR della nostra movida milanese Lui è Gabriel Infinity, quindi io so che tu operi non solo all'All Fashion ma gestisci anche altri locali su cui comunque sei organizzatore, ti occupi di PRaggio, insomma un po' le mani in pasta Ho tanti fronti, comunque io so che se a parte gli scherzi sei bravissimo nell'organizzazione delle serate e qui essere qua all'All Fashion è una conferma di come appunto sei bravo a organizzare serate e anche eventi Ecco descrivici un po' da quanto tempo ti occupi di questa attività e che progetti hai? Sì, 15 anni che mi occupo di organizzare eventi sui migliori locali di Milano Questa sera siamo presso la location dell'All Fashion Caffè che ci ha ospitato dove abbiamo degli eventi già inseriti in programma e niente, quindi ogni lunedì vi aspettiamo qua l'All Fashion, il Lista Infinity e giovedì invece siete invitati al Tocqueville per la festa del gruppo Infinity siamo 150 persone già invitate, quindi se volete raggiungerci questo giovedì al Tocqueville nel Privé basta dire Lista Infinity, quindi accedete tutti nel Privé abbiamo delle torte, delle bottiglie, quindi un'altra festa di gruppo lì e invece su altri locali organizziamo sempre eventi, cantanti in collaborazione anche con Francesco Puglisi che è lui che organizza e cura i cantanti noi curiamo invece la parte artistica e la parte del locale dove comunque la gente arriva e ha già la prenotazione e tutto e inseriamo pure questi artisti nella scaletta che poi vengono presentati e niente, che dire, venite a trovarci, non rimanete a casa e godetevi la vita perché noi vi aspettiamo e siamo qui per portare qualcosa di nuovo nei locali e tenere comunque la mia vita al massimo che dire allora, stringiamo perché gli appuntamenti sono tanti, ricapitoliamo lunedì all fashion, poi andiamo avanti lunedì Biblos, mercoledì Biblos giovedì Tocqueville, venerdì all fashion, sabato ne penda quindi tutte le sere abbiamo un locale diverso dove poter organizzare degli eventi e divertirci tutti insieme andando in discoteca e niente comunque noi abbiamo modo di seguirti sui social io direi che intanto oggi è lunedì e ci godiamo l'all fashion, giusto? che c'è tanto salutiamo i nostri amici di Radio Rollers ciao, da me Infinity, lista Infinity eh sì, lascio aiuto